Riprendiamo la nostra diretta, dunque, come vedete dalle nostre immagini, abbiamo qui con noi Fra Francesco Neri, frate minore Cappuccino, arcivescovo di Otranto. Buongiorno, pace bene, ben trovato. Pace bene a tutti, grazie di questo incontro. Abbiamo disturbato Fra Francesco prima della celebrazione eucaristica che presiderà alle 11 nella chiesa di San Pio, ma era davvero doveroso ascoltare anche la tua voce in questa giornata di festa. Fra Francesco, io vorrei partire rifacendomi anche a quello che diceva prima Monsignor Mario Pacello, a quella vita di misericordia che Padre Pio ha incarnato appunto nella sua esistenza, una vita che è stata resa potremmo dire un confessionale vivente, sempre aperto al perdono. Vorrei citare una bella espressione di Papa Francesco che ricevendovi in udienza dopo il capitolo generale del 2018, mettendo da parte il discorso scritto e parlando a braccio, ha detto che non vuol dire essere di manica larga, ma è una saggezza di riconciliazione e ovviamente non poteva non citare anche Padre Leopoldo Mandic a questo proposito. Abbiamo bisogno di figure come Padre Pio, come Padre Leopoldo, ma la domanda che io mi faccio e che rimbalzo a te Fra Francesco è dove le dobbiamo trovare? Dobbiamo essere noi, no? Quando gli Apostoli fanno presente a Gesù che c'è tanta gente che bisogna sfamare, Gesù risponde agli Apostoli date voi stessi loro da mangiare, dobbiamo essere noi gli strumenti di questa misericordia da offrire al Signore, non gli altri ma io. Dunque siamo noi i primi a dover mettere in pratica la misericordia di cui Padre Pio e Padre Leopoldo sono stati strumenti. Basta guardarci intorno e ci sono tanti ambiti in cui offrire questa misericordia a questo mondo agguerrito e violento. Cito anche io Papa Francesco, ma solo per uno spunto, perché Papa Francesco dice quale grande tradizione avete voi, cappuccini, nella prossimità spicciola alla gente, nella partecipazione ai problemi concreti, nel colloquio spirituale e nell'amministrazione del Sacramento della Riconciliazione. Ecco, tutto questo, tutti questi compiti a cui voi siete chiamati a rispondere, probabilmente valgono in misura doppia anche per lei che è non solo un cappuccino come un vescovo cappuccino da poco, vescovo di Otranto. Naturalmente nell'esercizio della missione che mi è stata affidata dal 17 giugno non posso non mettere la mia identità, il mio carisma di frate Cappuccino. Ci sono chiaramente ambiti diversi, però la mia spiritualità non può che entrare in questo servizio, anche perché nella sede di Otranto c'è stato parecchi anni fa un altro cappuccino vescovo, Monsignor Cornelio Sebastiano Cuccarollo, quindi ancora tanta gente si ricorda di questo cappuccino vescovo, mio predecessore. Dai cappuccini io posso portare nell'esperienza della diocesi la vicinanza alla gente. Come avete indicato prima nella citazione di Papa Francesco, i frati cappuccini sono i frati del popolo, sono quelli a cui è facile avvicinarsi. Ricordiamo la descrizione del Manzoni che diceva che i cappuccini sono avvezzi sia a farsi tirare il cordone da un ragazzino che scherza con il frate, sia a essere riveriti nei palazzi dei principi. Quindi sono i frati che stanno con la gente e con ogni tipo di gente. Io questo vorrei portare prima di tutto nello svolgimento della mia missione, questo essere vicino alla gente, questo essere come dire un vescovo del popolo, questo mi piacerebbe essere. Vado a memoria sperando di non sbagliare perché Papa Francesco faceva un esempio in Argentina del fatto che tante volte la gente porta a disprezzare, ecco non me ne vogliano i preti assolutamente, l'abito talare ma poi vedendo l'abito di un cappuccino addirittura provano meraviglia ed è questo porta ad un incontro. Un incontro che potremmo dire fra Francesco, io vorrei plasticamente evidenziare anche nella città di Otranto che tu sei chiamato ovviamente a presiedere come pastore della chiesa, una città che guarda all'Oriente, Papa Francesco più volte si è regato qui in Puglia, sottolineando questa peculiarità della nostra regione, il fatto che sia un ponte verso l'Oriente ma anche verso l'accoglienza di tante persone. Allora vorrei chiederti come vivi tu il Ministero dell'Accoglienza? Allora faccio una premessa, nessuno tocchi i preti. Assolutamente. Specialmente nessuno tocchi i preti della diocesi di Otranto. Tra l'altro c'è il segretario che sta ridendo. Tra l'altro qui c'è il segretario e il caro Don Alessandro. Dunque ci sono tanti pregiudizi presso la gente ma io conosco, a cominciare da quelli della diocesi, esempi di sacerdoti che pregano generosamente, che si dedicano alla gente, che hanno opere di carità. Quindi i pregiudizi sono completamente da smontare. Tra i preti ci sono figure di santità anche nel nostro tempo e ripeto nella mia diocesi. Perciò come voleva San Francesco e come ha fatto Padre Pio che aveva affidato l'opera dei gruppi di preghiera a un sacerdote diocesano, ecco bisogna amare i sacerdoti. Diciamo che l'Argentina è diversa anche dall'Italia. Ma perché lì c'è adesso, lo sappiamo, un discorso di massoneria e via di questo passo, ma insomma sacerdoti santi ce ne sono stati, ce ne sono e ce ne saranno grazie di Dio dappertutto. Quindi come vuole il Signore, come ha fatto San Francesco, come ha fatto Padre Pio, amiamo e onoriamo i sacerdoti. Ciò premesso, Otranto è sicuramente un luogo dove l'accoglienza è una vocazione. Abbiamo una storia di martirio e quindi siamo anche ammoniti sul fatto che incontrarsi tra popoli di culture e religioni diverse non è così facile. Però sappiamo anche che l'unica strada è questa, quella dell'incontro, quello del dialogo, quello di non aver paura dell'altro, di conoscerlo e di scoprire che forse appunto dopo che ci siamo conosciuti non c'è motivo di aver paura, si può essere fratelli. E direi che abbiamo degli esempi proprio nei nostri presidenti della Repubblica che sono stati amici dei nostri papi. Penso a Pertini che era amico di San Giovanni Paolo II. Pertini, che io sappia, non era un cattolico praticante, ma erano amici con Giovanni Paolo II, andavano insieme a fare le gite in montagna. Oggi presentiamo al Signore il presidente Giorgio Napolitano, anche lui non credo fosse un cattolico praticante, ma era amico di Papa Benedetto, con una reciproca stima. Quindi si può e si deve essere amici con uomini che cercano Dio attraverso vie diverse dal cristianesimo, uomini anche che non cercano Dio, ma in fondo il Regno di Dio non è che è una convivenza fraterna su determinati valori, che sono quelli annunciati del Vangelo, ma che possono trovarsi anche al di fuori della Chiesa perché lo Spirito Santo agisce dove vuole. Ecco, in questi giorni, ma poi anche durante la veglia di ieri, ci siamo soffermati spesso sulle immagini di San Francesco e sull'attualità di San Francesco e quest'anno ricorrono diversi cinque centenari francescani e tra di essi anche il centenario della regola bollata, la regola con la quale San Francesco possiamo dire un po' che realizza un sogno, cioè quello di donare ai fratelli un cammino condiviso. Ecco, quanto è importante oggi camminare insieme in una realtà, quale in cui viviamo, in cui l'individualismo un po' fa da padrone e quali sono le strategie per poter camminare insieme? Quando Francesco D'Assisi ha voluto la regola per i suoi frati, è stata anche la Santa Sede un po' che gliel'ha chiesta, ha rimandato prima di tutto semplicemente al Vangelo. Quindi anzitutto regola significa vivere il Vangelo, così iniziano le prime righe della regola, questa è la vita e regola dei frati minori, mettere in pratica il Vangelo. E questo Vangelo nello stile di San Francesco trova il suo cuore nella fraternità. Quindi contro l'individualismo non possiamo che costruire spazi di fraternità. Nel mondo francescano in primo luogo, in tutto il mondo ecclesiale, non dimentichiamo che il Papa ha emanato una enciclica che prende appunto il titolo da un'espressione di San Francesco, Fratelli Tutti. E ancora il Papa, insieme a una grande autorità religiosa dell'Islam, ha emanato il documento sulla fraternità universale. Quindi costruire spazi di fraternità, incontrare l'altro, conoscerlo abbattendo i pregiudizi, scoprire che non è necessario pensarlo in tutte le cose allo stesso modo, ma che si può vivere insieme nella fraternità e nell'amicizia. Ecco, tutte le iniziative che in ogni ambito portano a rafforzare l'amicizia, a creare spazi di fraternità tra la gente, sono gli strumenti per reagire all'individualismo. Fraternità uguale pace, potremmo dire. La veglia di preghiera di stanotte è stata particolarmente incentrata sulla richiesta e sul tema della pace. Io vorrei citare uno dei profeti di pace del nostro tempo, Don Tonino Bello, che a te, tra Francesco e tanto caro. Ho trovato una citazione davvero molto molto bella, che sinceramente la prima volta che leggevo mi ha lasciato davvero di stucco. La pace prima che traguardo e cammino, diceva Don Tonino Bello, e per giunta cammino in salita, vuol dire allora che alle sue tabelle di marcia i suoi ritmi, i suoi percorsi. È una definizione straordinaria, sembra scritta stamattina, pochi minuti fa. E quello che vorrei chiederti è una riflessione. Quanto ci manca, Don Tonino? E chissà cosa avrebbe da dire oggi sulla situazione che stiamo vivendo in Europa, nel mondo? Certamente Don Tonino ci manca, è presente nella memoria di tanti che lo hanno incontrato, come ho avuto la grazia di avere io, negli scritti che bisognerebbe approfondire, nei gesti che ha compiuto. Quindi ci manca ma è nello stesso tempo presente, basta ascoltarlo, anche qui liberati dai pregiudizi. Ci sono tanti stereotipi su Don Tonino che bisogna abbattere. Quello che dice Don Tonino però è fondamentale, cioè la pace è qualcosa da conquistare ogni giorno. Noi viviamo in Europa, per noi è impensabile che le nazioni europee si possano fare guerra. I nostri genitori, i miei genitori invece hanno avuto un'esperienza diversa, però stiamo vedendo che di nuovo nella nostra Europa la pace è compromessa e così nel resto del mondo ci sono tante guerre. Ahimè non c'è solamente la terribile guerra tra Russia e Ucraina sulla quale il Papa ci ricama continuamente, ci sono tante guerre nel mondo. Allora ogni giorno bisogna ricominciare, credo che sia questo il significato di quello che ci dice Don Tonino, perché il cuore dell'uomo, l'avidità, gli interessi anche delle nazioni creano sempre una situazione di fragilità per quanto riguarda la pace. Perciò bisogna consolidare i risultati raggiunti attraverso il dialogo, attraverso gli accordi, ma anche ricominciare ogni giorno da capo, ogni giorno da capo. La pace è un dono di Dio, ma anche una conquista che con il nostro impegno quotidiano dobbiamo porci come obiettivo ogni giorno da capo. E posso permettermi, Simona Frafrancesco, anche di introdurre il verbo camminare, che è uno dei verbi caratteristici della vita di San Francesco. Anche lo stesso Pontefice lo ha detto più volte, non possiamo stare fermi sull'uscio delle nostre porte, ma dobbiamo uscire in strada. E allora il camminare assume una rilevanza importante anche alla luce di quello che dicevamo prima, questa fraternità universale che ci deve coinvolgere tutti. Non so se condividi. Certamente sì. Anzitutto il cammino è una caratteristica del Signore Gesù. Tutto il Vangelo di Luca, come sappiamo, è organizzato come un cammino, un cammino di Gesù verso Gerusalemme. L'opera gemella del Vangelo di Luca, cioè gli Atti degli Apostoli, sono un altro cammino. Il cammino della Chiesa da Gerusalemme verso il mondo, l'espansione universale della Chiesa. I cristiani venivano chiamati quelli della via nei primi tempi. Gesù stesso nel Vangelo di Giovanni dice io sono la via, quindi per seguire uno che è la via bisogna camminare. E anche nel mondo francescano una caratteristica centrale del carisma è l'itineranza, magari non abbastanza conosciuta, ma significa che a differenza dei monaci che vivevano stabilmente nello stesso luogo tutta la vita, perché questo dovevano fare, i francescani vanno lì dove c'è bisogno di andare, vanno specialmente lì dove nessuno è disposto ad andare. Ma tutti i cristiani dovrebbero vivere questa itineranza, andare lì dove c'è bisogno di testimonare il Vangelo. Per non dire che la stessa fede è un cammino. Noi iniziamo, poi però ogni giorno anche qui ricominciamo, come dice Sant'Agostino, Dio è colui che quanto più lo trovi, tanto più devi continuare a cercarlo. Quindi la stessa fede, il nostro cammino di unione con Dio è appunto un itinerario che non finirà mai se non pienamente nell'eternità. Avete una responsabilità importante perché comunque questi centenari che stiamo vivendo fino al 2026 vedranno coinvolti in maniera importante, dunque dobbiamo darci da fare. Senz'altro sì, però è anche una grazia perché poi San Francesco appartiene a tutti e insomma interessa a tutti, anche i non cristiani, i non credenti sono affascinati da San Francesco, quindi penso sarà uno strumento provvidenziale per avvicinare tanta gente a San Francesco e tanta gente al Signore Gesù. San Francesco è di tutti, ma possiamo dire anche che San Pio è di tutti, nella frase che ricordo ieri della veglia, tutti possiamo dire che Padre Pio è mio e Padre Pio è tante cose, è amore per la croce, per gli altri, è carità, è preghiera, è confessione, quindi apertura all'altro, ma per lei che cos'è Padre Pio? Se possiamo racchiuderlo in un'immagine da lasciare, ecco a chi ci guarda da casa, che cos'è? Allora per me Padre Pio è nelle sue stimate, cioè nella meta del cammino di ogni cristiano, che è la piena configurazione a Gesù. Questo è il bene per ogni cristiano, essere come Gesù, essere degli altri Gesù. Nel caso di San Francesco, nel caso di Padre Pio, le stimate sono state visibili, ma ognuno di noi ha le sue stimate invisibili, quindi come diremmo nella preghiera della messa, la grazia di partecipare alla croce, ecco questo ci insegna Padre Pio, cioè anche se all'uomo naturale non è facile ascoltare la logica della croce, al cristiano questo deve apparire come una grazia. Però se uno sperimenta un po' qualche goccia del calice che ha bevuto Gesù, ecco che poi scopriamo una grande gioia, quella di essere diventati come Gesù, dicendolo con una sola parola, il fascino di Padre Pio, l'essenziale di Padre Pio è la santità. Alla fine poi il mondo questo cerca, sicuramente c'è la casa sollievo che è un'opera fondamentale, altri santi hanno compiuto tante altre grandi opere di misericordia corporale, di misericordia spirituale, ma quello di cui ogni uomo va alla ricerca è la santità. Quanta gente era lontana da Dio ma è venuta chissà da dove a cercare Padre Pio perché sentiva che c'era Dio in quell'uomo. Perciò il mio Padre Pio è il Padre Pio che è un uomo configurato a Cristo nel quale sentiamo che Dio si è fatto presente. Ecco in questo percorso di santità che tutti ogni giorno cerchiamo di imboccare, anche perché come dicevamo prima la santità non è un percorso esclusivo, è un percorso di tutti, è una chiamata per tutti i cristiani. Ecco dato che fanno cenno che il tempo è finito, noi avremo anche altro da chiederti fra Francesco, però ovviamente la televisione è tirana. Ci sarà qualche altra circostanza. Assolutamente. Vi aspetto a Dothranto, che è il posto più bello del mondo. Magari, davvero. Io ci sono stato in vacanza al di fuori. E venite anche per lavoro a Dothranto. Aspetto voi e tutti gli spettatori e i devoti di Padre Pio. Ok, allora accogliamo il tuo invito fra Francesco e ti ringraziamo per essere stato con noi, ti rivedremo tra poco meno di 90 minuti alle 11 per la celebrazione eucaristica nella solennità di Padre Pio. Grazie per essere stato con noi e per dare un'indicazione alla regia. Subito dopo la pubblicità ascoltiamo un breve stralcio della riflessione di Fra Roberto Genuine, il ministro generale che stanotte a mezzanotte e un quarto appunto ha preseduto la prima celebrazione eucaristica di giornata nella solennità del nostro santo. Grazie ancora fra Francesco. Pace e bene. Pace e bene. Pubblicità.